Buongiorno amici rossoneri, vi starate chiedendo dove sono finito, sono sparito, che fine ho fatto? Beh ragazzi, sono straimpegnato col lavoro, ho due impiegate a casa, tutte e due impiegate a casa una in vacanza, me l'ha chiesta da un anno, la fiera del suo paese, qua in Spagna, se conosciuti spagnoli lavorano tutto l'anno, però la fiera del paese è la settimana di vacanza, quindi vacanza l'altra invece ha cambiato lavoro, ha trovato un lavoro vicino a casa sua, quindi sono da solo qua adesso in magazzino, sto lavorando come un disgraziato da due settimane, non sto facendo video ma sto seguendo ovviamente i nostri amici rossoneri, impiegati in nazionale e un occhio di attenzione come non metterlo al signor Musa che ha giocato due partite da regista basso, mediano davanti alla difesa, ovviamente contro Mann e Uzbekistan se non sbaglio, quindi livello basso, però due partite molto interessanti che potete andarvi a vedere, per vedere appunto Musa agire da regista basso, cosa che avevamo ipotizzato appunto quest'estate quando avevamo visto le sue partite con la nazionale, nel Milan per il momento Pioli lo sta impiegando come giocava nel Valencia, cioè mezzala destra che poi si allarga sulla destra e permette all'esterno destra di accentrarsi, in questo caso noi sempre abbiamo visto Musa e Ciucquezze e quando appunto non c'erano Loftus-Cic o Pulisic, ci sono due coppie, basicamente sulla destra che Pioli sta provando in queste partite, cioè Musa che parte da centro-destra e si allarga, Conciucquezze che parte da destra e si accentra, un discorso diverso quando c'è Loftus e Pulisic che fanno movimenti un po' diversi, a me sinceramente Musa in quel ruolo continua a non piacere perché gioca come giocava con il Valencia, cioè male, non fa buoni dribbling sulla fascia, abbiamo visto le statistiche peggiorno tantissimo quando viene impiegato sulla fascia, quando viene impiegato in zone più centrali del campo, tanto in passaggi che in dribbling e in tante altre cose. Nella nazionale, bisogna dirlo, ha iniziato la prima partita come mezzala sinistra, che è lo stesso ruolo che ha ricoperto al Mondiale ed è dove io lo preferisco, se dovessi sceglierlo e schierarlo come mezzala, lo preferisco sulla sinistra perché lui ha comunque nel sangue il dribbling verso destra, non ce l'ha verso sinistra il dribbling, ce l'ha verso destra, quindi si allarga sulla destra, comunque è propenso a spostarsi sulla destra, quindi perché non si vada a infossare nella bandierina, io lo preferisco appunto come mezzala sinistra in modo che si possa accentrare e rendersi anche un po' più pericoloso, l'abbiamo visto con un paio di ripartenze che ha fatto nei pochi minuti che ha giocato al Milan, quando è ripartito proprio da zone centrali. In zone centrali dribbla meglio, ha più vie di uscita, passa meglio, gestisce meglio in generale il gioco e lo potete andare a vedere come mediano-basso, ruolo in un centrocampo a tre che è la prima volta che ricopre perché ha ricoperto, lo avevamo visto, col nazionale mediano-basso in una 4-2-3-1, però in un centrocampo a tre, quindi regista-basso stile Krunic, ok, non l'avevamo ancora visto ed è molto molto interessante andare a vedere queste partite, io non mi sono visto, le partite non ho avuto tempo però me le vorrò andare a vedere, mi sono visto qualche highlights nel mentre, giusto per confermare quanto avevamo già visto quest'estate appunto su Yunus Musa, che stando a quanto dice Pioli dalle sue parole ha detto, lui lo vede più di inserimento, vede piuttosto come alternativa Krunic Adli o Reinders se impara a rimanere dietro e non inserirsi, cosa che anche di lui ve ne avevo parlato quest'estate è il calciatore che gli piace molto inserirsi e si fa trovare spesso vicino all'area quindi Reinders sì lo può imparare a ricoprire ma deve appunto sacrificarsi e secondo me finisce per rendere peggio, Reinders è meglio averlo più a tutto campo più un regista che crea gioco e si inserisce, mezzala, quello che volete ma più a tutto campo che come l'abbiamo visto nell'ultima partita e che a me piace tantissimo quello che deve rimanere dietro, ok, secondo me deve essere Krunic o appunto Musa perché Musa non ha il gol nel sangue, ha un buon recupero palla, deve imparare come Adli attenzione, come ha detto lo stesso Pioli su Adli che deve imparare a difendere ma non tanto nei contrasti perché Adli ce li ha come ce li ha anche Musa e Krunic però Krunic cosa ha in più? Ha la capacità nel difendere, nel spostarsi nelle zone del campo e tappare i buchi, conosce bene gli skin di Pioli, sapete che abbiamo tanti calciatori che si intercambiano, quindi Krunic sta sempre guardando dove non c'è Teo, boom, si va a infilare lì uh, non c'è il Tarzino, si va a infilare lì, uh, Krunic è molto intelligente da quell'aspetto quindi per questo Pioli credo che in quel ruolo continuo a vedere Krunic e Ben Nasser perché sono tatticamente e difensivamente i due più intelligenti che sanno meglio come muoversi conoscono appunto meglio come gioca il Milan però, come vi ho detto, Musa secondo me, quello è un ruolo dove potrebbe rendere al meglio se secondo me, poi ovviamente non sono Pioli, Pioli avrà altre idee però, da quanto abbiamo visto, l'allenatore degli Stati Uniti ha più o meno le stesse idee che ho io quindi cioè un Musa che se vuole arrivare a rendere al meglio, diventare un gran calciatore secondo me il ruolo migliore è quello lì, non è quello di mezzare l'offensivo perché non è un calciatore che ha il gol nel sangue sia dribbling, sia un buon passaggio, ha un tiro potente se volete ma non ha il gol, la finalizzazione nel sangue ha altre cose che secondo me, come ho detto, lo potrebbero far rendere molto bene da un cantè, un che si cantè, se così lo vogliamo definire ovviamente con il tempo deve migliorare da questo punto di vista difensivo ma su come andare a posizionarsi in certe frangenti quindi non credo che nel Milan lo vedremo a breve termine in quel ruolo credo che ovviamente il primo sarà Krunic, poi Adli perché alla fine Adli è quello che lo abbiamo visto più quest'estate quel ruolo lì quindi l'ha recoperto un po' più volte però io resto dell'idea che Musa secondo me potrebbe rendere Aspettate che ecco qua, l'ho rifiutato adesso recchiamo perché stanno venendo a prendere l'ordine finalmente ho finito quindi adesso posso andare a preparare l'ordine mentre guardate chi c'è qua vi faccio vedere, si vede? Mew! Bambina! Ciao! Questa qua è la gatta del magazzino sono pieno di cazzo Eh bambina? Saluti? Saluta bambina Bambina, ciao Lei l'abbiamo trovata nel magazzino qua, vedete qua dove sono io? Non so se vedete era qua che girellava senza coda la gatta, senza mangiare Magro lì adesso qualche mese che è qua e sta da dio cicciona col suo mangiare lì sta qua nell'ufficio, la teniamo nell'ufficio col suo prato qua davanti ragazzi che ci volete fare io con i gatti è così gatti Milan sono due cose che che non posso farne a meno comunque ragazzi devo andare mi sa ad aprire sto qua per l'ordine perché poi anche io me ne voglio andare a casa oggi e finalmente finire guardate qua se volete dare un occhio al mio magazzino vedete prodotti per giateria se volete aprire una giateria in Spagna ok vedete qua sono tutti i prodotti ma marmellate nutella un sacco di roba un sacco di roba dai ragazzi ci vediamo in questi giorni ovviamente tra un po' riniziano le partite quindi tutto bello tutto ok statemi bene ciao